Una nuova stagione, avremo un grosso bersaglio sulla nostra schiena, dobbiamo imparare a conviverci, però l'orgoglio di essere le campionesse in carica rimane. Forse l'unica pecca di questo scudetto è stato non festeggiarlo con i nostri tifosi, però si troveranno dei modi sicuramente. Con il raduno e il primo allenamento al Palasport Agliercio è iniziata la stagione dell'Umana Reier femminile. Dopo le visite mediche di Rito, le Oro Granata si sono ritrovate con staff e dirigenza, con coach Romano e i preparatori Rocco e Grespan. È un onore giocare col tricolore sulla maglia, sarà sicuramente un campionato duro, difficile, perché oltre al campionato italiano dovremo affrontare anche l'Eurolega, quindi sarà strutturalmente completamente diverso da quello dell'anno scorso. Il campionato italiano è anche molto più complicato rispetto all'anno scorso, perché comunque ci sono molte squadre che si sono rafforzate, ma noi sicuramente saremo pronti ad affrontare entrambe le competizioni. Dovremo essere bravi a tenere mentalmente tutte le partite, a stare concentrate in tutte le partite, cercare comunque di avere grande attenzione, grande fisicità e soprattutto essere pronte tutte undici a quando il roster sarà completo. A competere su entrambe le competizioni. Il roster non ha potuto presenziare al completo a causa delle assenze di Anderson, reduce da europeo e olimpiade e attesa a Venezia nei primi giorni di settembre, a Stundur e Kaila Thornton impegnate con Chicago e Dallas e di Elisa Penna alle prese con una gastroenterite. Ci sono stati dei cambiamenti soprattutto nel settore straniere, il reparto italiano penso che sia fantastico, essere state tutte confermate, ritrovarsi in così tante qua dall'anno scorso fa sì che comunque ci sia già un gruppo, una mentalità consolidata e penso che anche per le nuove sarà più facile poi integrarsi nel nostro gruppo. Non vediamo l'ora, siamo veramente molto cariche e molto emozionate. Grazie. Grazie. Grazie.